di Harry Potter. Luigi la spada. Innanzitutto grazie a Riccardo che mi ha invitato, essenzialmente, diciamo, perché mi ha invitato. La notizia ha fatto il giro, diciamo, di tutte le principali testate giornalistiche e dalla CNN, CBS, Repubblica, quindi nazionali e internazionali. Essenzialmente un paio di mesi fa ho pubblicato sulla rivista Nature Publishing Group Scientific Reports la mia ricerca sulla metamateriali e invisibilità. Queste sono le due parole chiavi che cerco di, come dire, trasmettervi oggi. Il concetto principale è l'invisibilità, però, ecco, per essere chiari, non abbiamo inventato il mantello di Harry Potter. È sicuramente uno, scusa se ti devo, come dire, è sicuramente un, diciamo, un passo importante che abbiamo fatto nella scienza, nel mondo dell'ingegneria, verso la creazione, appunto, del mantello dell'invisibilità. Che cosa abbiamo fatto realmente? Allora, da un punto di vista pratico, sappiamo che una qualsiasi onda, che sia elettromagnetica, che sia acqua, che sia calore o suono, quando incontra lungo il suo percorso un oggetto, in questo caso il nostro è un oggetto tridimensionale, viene scatterata. Significa che la sua configurazione, la sua propagazione, viene disturbata, alterata. Ed è proprio quello che si può vedere in questa slide, dove l'onda elettromagnetica viene proprio scatterata in tutte le direzioni. Però, se noi invece utilizziamo e ingegnerizziamo dei materiali in grado di far passare questa onda attraverso l'oggetto, rendiamo l'oggetto invisibile all'onda elettromagnetica. E cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo essenzialmente progettato una serie di materiali chiamati a indice di rifrazione graduale, nanocomposti a indice di rifrazione graduale, ma che chiameremo più generalmente metamateriale. In questo caso l'onda è come se non vedesse l'oggetto e va indisturbata per la sua strada. Non è stato solo uno studio teorico e di simulazione, è stato anche uno studio pratico, in cui abbiamo realizzato il dispositivo e abbiamo fatto proprio le misure sperimentali. Qual è il risultato? Un oggetto dalle dimensioni delle palline di tennis, ad esempio, rivestito di questo metamateriale, risulta invisibile all'onda elettromagnetica. Invisibile, quindi abbiamo capito che è come se non lo vedessimo a occhio umano. Da considerare che comunque questi esperimenti sono stati fatti per quanto riguarda le onde radio, non per la luce, però il concetto è estendibile anche per la luce. Allora, i concetti di metamateriali e di invisibilità in realtà non sono moderni, sono presenti già nell'antichità, e quindi, ad esempio, vediamo qui il primo esperimento, il primo tentativo di metamateriale, nanotecnologia, è stato proprio nel IV secolo d.C., con praticamente il vaso di Licurgo, è un'opera romana, quindi già all'epoca i romani avevano capito come, mischiando materiali particolari presenti in natura, potevano ottenere delle proprietà, in questo caso ottiche, diverse da quelle dei materiali presenti, di quelli che puoi sostanzialmente trovare in natura. Infatti, questi vasi, sostanzialmente, a seconda di come la luce incide su questi vasi, si può vedere come ottengono un effetto, si chiama di rifrazione, con il colore verde o con il colore rosso. Ma, in realtà, andando avanti con il tempo, il concetto di manipolazione delle onde elettromagnetiche, manipolazione della luce, è possibile trovarlo anche nelle storie di Wells in the Invisible Man, oppure nelle famose, appunto, libri e movies di Harry Potter. E, non ultimo, anche, diciamo, gli ultimi film di Star Trek, dove proprio loro utilizzano, lo chiamano proprio dispositivo di clocking, per nascondere la loro nave per i più appassionati dai nemici romulani o Klingon, essenzialmente. Ok, questo è solo, diciamo, fantascienza, storia, letteratura, ma, in realtà, i metamateriali sono, adesso, dopo vent'anni di ricerca, sono una realtà. Sono una realtà scientifica, ingegneristica, e anche, in certo senso, sono presenti nella tecnologia che noi utilizziamo, o, quantomeno, lo saranno nel prossimo futuro. Il concetto dietro i metamateriali è abbastanza semplice, non vi preoccupate, so che è ora di pranzo, quindi non farò una lezione, diciamo, accademica. Andrò molto, molto, molto veloce, ma giusto per farvi capire di che cosa si tratta. Sappiamo che la materia è composta a livello molecolare da atomi, che sono gli elementi più fondamentali, diciamo, di tutta la materia presente sulla Terra. Ecco, a seconda della loro disposizione, abbiamo delle proprietà fisiche e chimiche, elettromagnetiche, ottiche, che sono tipiche di questo materiale. Adesso, il concetto è stato, diciamo, spostato in questo, un nuovo materiale chiamato metamateriale, perché vengono utilizzati quelli che si chiamano equivalentemente agli atomi, atomi artificiali, meglio conoscete come inclusioni, o nanoparticelle. Vengono inserite all'interno di un materiale ospitante e, a seconda di come vengono riarrangiate essenzialmente, creano una proprietà o più proprietà che siano essenzialmente elettromagnetiche, che vanno al di là delle proprietà presenti in natura. Da qui il nome, appunto, metal, perché dal greco, non sono un esperto di greco, però dal greco significa beyond, oltre i materiali tradizionali. diciamo che è stato teorizzato, il concetto di metamateriale è stato teorizzato nel lontano 1964 dal professor Veselago in Russia, ma solo 30 anni dopo i veri e propri esperimenti sono stati effettuati dal gruppo britannico di Sir John Pendry all'Imperial College e dal gruppo del professor Smith al California Institute of Technology. Una delle proprietà particolari di questi metamateriali essenzialmente è quella di piegare il fascio della luce in modi non convenzionali rispetto all'elettromagnetismo classico. Questa è semplicemente un'immagine per far capire il concetto dove una piscina riempita di acqua con un certo indice di rifrazione che rappresenta la proprietà elettromagnetica dell'acqua, la proprietà ottica dell'acqua, vediamo essenzialmente come il fondo devia in maniera naturale verso il basso. Qua invece in realtà se immaginiamo un'acqua con le caratteristiche di un metamateriale diciamo il fondo è come se andasse in direzione opposta venendo verso di noi uscendo fuori fuori dalla vasca. Ecco, questo è il concetto che in un certo senso abbiamo utilizzato nel nostro studio cioè quello di poter deviare a nostro piacimento l'onda elettromagnetica e quindi poter aggirare l'ostacolo essenzialmente. Ok, sappiamo che quando parliamo di metamateriali all'inizio sono stati come dire sono stati associati al concetto appunto di invisibilità però i metamateriali non sono soltanto invisibilità i metamateriali vengono adesso applicati in diversi campi di applicazione come ad esempio le telecomunicazioni il computing data il data storage medicina e quant'altro. E una delle caratteristiche diciamo che hanno portato uno dei vantaggi dei metamateriali in realtà è quello di poter combinare la teoria classica delle antenne con le proprietà straordinarie di questi metamateriali si è arrivato a quello che si chiama il concetto di antenna miniaturizzata o antenna piccola questo che cosa ha permesso di fare essenzialmente di costruire nuove antenne con esattamente le stesse performance elettromagnetiche delle antenne classiche ma in questo caso è possibile indossarle possono essere flessibili e sono meccanicamente robuste sul concetto di wearable andremo come dire andremo vedremo più avanti quanto è importante diciamo in medicina ma una cosa diciamo di cui noi andiamo fieri lì a qui in Mary è che essenzialmente siamo stati tra i primi assieme e in collaborazione con la Sony a costruire a sviluppare un'antenna ultra wide band cioè che può essere utilizzata a più frequenze compatta piccola e soprattutto leggera da poter utilizzare nelle comunicazioni mobili e satellitari un'altra applicazione dei metamateriali è quella del computing e del data storage allora sappiamo tutti come funziona un computer è costituito da scheda madre scheda video insomma una serie di componenti che a loro volta sono costituiti da circuiti elettrici costituiti a loro volta da quelli che vengono chiamati building blocks cioè gli elementi fondamentali che sono praticamente le prime cose che io ho studiato quando sono andato in ingegneria sostanzialmente e sono resistenze induttanze e capacità ora grazie a i metamateriali possiamo portare il concetto di circuiti elettronici trasformarlo in circuiti ottici qual è il grande vantaggio abbassiamo i tempi di latenza e quindi miglioriamo la velocità di risposta dei dispositivi siamo in grado di fare operazioni matematiche complicatissime anche complicatissime con una velocità superiore addirittura a quella che abbiamo attualmente ma non solo questo perché essenzialmente non operiamo più con l'elettricità ma operiamo con la luce ma un'altra caratteristica è quella che muovendoci verso la luce quindi verso lunghezze d'onda sempre più piccole saremo in grado di in certo senso immagazzinare e già in un certo senso già questa cosa si è iniziato a fare immagazzinare una quantità di dati estremamente elevata in spazi estremamente piccoli e poi c'è anche questo diciamo questo campo che in un certo senso ha anche caratterizzato possiamo dire il mio dottorato perché l'applicazione dei metamateriali nel mondo della medicina sempre partendo dal concetto delle antenne piccole leggere e la possibilità di indossarle essenzialmente sono state create sviluppate negli ultimi anni vedete anche dagli anni delle pubblicazioni è tutto che è abbastanza abbastanza recente diciamo come scoperte e anche applicazioni la possibilità di indossare queste antenne sul corpo umano quindi creare in un certo senso antenne si chiamano textile antennas cioè antenne sui tessuti sui vestiti essenzialmente oppure addirittura una cosa ancora più importante antenne impiantabili con la possibilità di diciamo trasmettere per esempio applicazioni di sensing medico trasmettere le i segnali del paziente al database centrale ad esempio in un ospedale real time ma allo stesso tempo con i metamateriali siamo in grado di non creare diciamo effetti negativi per la salute del paziente stesso perché immaginate impiantare un'antenna normale all'interno di un paziente cosa può comportare essenzialmente un altro questo diciamo riusciamo anche a superare questo questo limite grazie ai metamateriali un'altra applicazione è quella non solo di sensing ma anche di terapia basti pensare all'ipertermia è l'applicazione delle nanoparticelle per tessuti essenzialmente malati in vivo o in in vitro e ultimo ma non meno importante diciamo che ultimamente c'è stato come dire un grande flusso di investimenti da parte dell'Unione Europea verso le aziende e le università che sono coinvolte nella come dire nella ricerca su su questo materiale che si chiama grafene basti pensare che gli inventori gli scopritori del grafene hanno preso il premio Nobel quindi possiamo immaginare quanto possa essere importante infatti possiede questo materiale possiede tantissime qualità che non sto qui a raccontarvele tutte ma diciamo da un punto di vista elettromagnetico possiamo dire che sono è importante perché è veramente un buon conduttore sia di calore che di energia elettrica e soprattutto meccanicamente parlando è elastico e flessibile quindi possiamo pensare alla creazione di essenzialmente di dispositivi e di componenti elettronici di nuova generazione che possono essere foldable quindi possono essere piegati senza perdere però in termini di prestazioni e anche possono essere conformi come si suol dire su superfici curve allora da quello che avete potuto vedere e quindi potete immaginare ovviamente tutta una serie di possibili applicazioni tra assorbitori emettitori termici sensing anche in campo della sicurezza e il più recente diciamo topic che sta andando di moda che è quello dell'energy harvesting essenzialmente da quello che avete potuto vedere diciamo che i metamateriali essenzialmente possono essere utilizzati ovunque l'unica nostra limitazione al momento è i dispositivi di manufacturing di produzione non sono in grado attualmente di creare quello che è il mantello di Harry Potter dell'invisibilità però io penso che diciamo che da qui a qualche anno e spero vivamente che queste tecniche di manufacturing possano migliorare sempre di più e saremo in grado di ottenere appunto il famoso mantello di Harry Potter grazie 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 grazie